DG2000 edizione delle 20 e 30, a tutti voi una buona serata. In apertura di giornale la manovra economica del governo, l'Unione Europea ha bocciato il documento programmatico di bilancio e ne ha chiesto un altro entro tre settimane. Da Mattarella o Monito nessuno può sottrarsi agli equilibri di bilancio, ci riferisce Augusto Cantelmi. Non era mai accaduto nella storia l'attesa bocciatura alla fine arrivata. La Commissione Europea ha deciso di respingere il documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Per il commissario economico Moscovi sì, il momento è grave. I rischi negativi per l'Eurozona sono tanti, ma questo non rappresenta la fine del dialogo. Ma al momento parlare di dialogo è complicato anche perché il governo italiano ribadisce che la manovra non cambia nonostante lo spread continui a salire. Ma l'abbiamo ripetuto più volte. Non è una manovra che è stata improvvisata. È una manovra che abbiamo meditato, elaborato, abbiamo pensato a lungo. Quindi dire oggi che la rivediamo o domani mattina che la rivediamo non avrebbe senso. Vorrebbe dire aver fatto le cose senza esprimere un indirizzo specifico di politiche economiche. Ma il capo dello Stato Mattarella a richiamare tutti al senso di responsabilità per il Presidente della Repubblica bisogna scongiurare il disordine della finanza pubblica che produce effetti negativi per fasce deboli e famiglie. Il governo avrà ora tre settimane di tempo per apportare modifiche alla manovra di circa 37 miliardi di cui 9 destinati al reddito di cittadinanza e 7 alla riforma della Fornero. Ma se Bruxelles dice no alla manovra, dal Quirinali invece arriva il via libera al decreto fiscale firmato oggi dal capo dello Stato. La nuova versione, dopo le tensioni interne alla maggioranza, non prevede condoni tombali e scudi fiscali. L'invità della legge di bilancio è il reddito di cittadinanza. Gestire questo nuovo strumento di aiuto contro la povertà saranno i centri per l'impiego. Ma come funzionano attualmente e come si preparano a svolgere il loro compito? Barbara Masulli ci racconta queste realtà. Vediamo. Il numero 55 non c'è, avanti il prossimo. Nel centro per l'impiego di Scampia, Napoli funziona così. Non esiste un sistema elettronico per fare la fila. Cioè, ho parlato con una signora e prima ho detto qua, al centro di collocamento, se veniva la settimana scorsa, per prendere la nuova aspettata mezza giornata. Tutto quello che ci chiede il comune noi lo facciamo. Ma non penso che sia l'unico che sia l'avente. Purtroppo Napoli non è l'eccezione. La regola, in Italia, quelli che un tempo venivano chiamati uffici di collocamento, in tutto sono circa 550, sono abbandonati a loro stessi. Pochi pc, ancora tanti faldoni pieni di carte, scarso personale. Solo il 3% dei disoccupati che si rivolgono ai centri per l'impiego trova un'occupazione contro il 20% di Francia e Germania. Mio padre, pure la stessa cosa, diciamo, è stato scritto più di 30 anni al collocamento. Non ha mai avuto una chiamata, mai. Eh, qua, un casino. Visto che saranno questi centri a gestire concretamente tutto ciò che avrà a che fare con il reddito di cittadinanza, il governo ha stanziato un miliardo per svecchiarli. Di Maio ci ha chiesto di rappresentare le grandi difficoltà che poi ogni regione a vario genere, a macchia di leopardo, vivesse. No, non ci ha spiegato né il reddito di cittadinanza né come intende implementare i centri per l'impiego. In attesa di migliorare queste strutture, forse per evitare lunghe file, è stato deciso che sarà lo Stato a calcolare, attraverso la dichiarazione dei redditi, a chi spettano i 780 euro mensili. Significa che il cittadino non dovrà presentare nessuna domanda ma solo aspettare di essere contattato. Sul tema c'è però ancora confusione, poche le certezze. Chi beneficerà dei 780 euro è obbligato a iscriversi ai centri per l'impiego, a frequentare corsi di qualificazione professionale, a offrire otto ore settimanali alla comunità per lavori socialmente utili e non potrà rifiutare tre offerte di lavoro consecutive. Ora a Piacenza con il preoccupante fenomeno delle risse tra ragazzi e adolescenti organizzati attraverso i social network in stile Fight Club, film cult sui combattimenti clandestini. Il questore della città ha rivolto un appello ai teenagers non fatevi coinvolgere in episodi violenti. Luciano Piscaglia è andato a Piacenza e ha raccolto una serie di testimonianze. Vediamo. Sono giovani e giovanissimi, in alcuni casi poco più che bambini. Si picchiano sotto gli occhi di tanti coetanei che, invece di dividerli, li incitano. Accade a Piacenza, in pieno centro storico. I ragazzi si convocano tramite i social e poi postano in rete i video dei pestaggi. Sì, sono a conoscenza anche perché alcuni di queste persone le conosco e quindi so bene cosa succede. Praticamente si mettono d'accordo via WhatsApp, si organizzano per fare risse, ma sono per stupidate, per ragazze, cose del genere. Ho saputo varie volte di questi scontri. Ci sono anche a scuola, durante la ricreazione, e secondo me andrebbero controllati. Non si può definire così Fight Club. È un incontro tra ragazzi che devono chiarire i propri fatti, ma hanno sbagliato il modo di farlo e lo hanno reso più pubblico di quel che doveva essere, secondo me. Che siano combattimenti clandestini, organizzati, come accade in altri paesi e come temono le forze dell'ordine, o solo risse tra ragazzi per futili motivi, rimane la gravità di episodi che nel solo ultimo fine settimana hanno portato al fermo di sei e all'identificazione di altri 63 giovanissimi. E il questore ha lanciato un appello a genitori e insegnanti. I ragazzi, sostiene, sottovalutano la gravità di quel che fanno e dei video che diffondono. Penso che veramente, come abbiamo ripetuto più volte, il lavoro non sia semplicemente levargli il mezzo, ma rieducarli. E il problema è la rieducazione affettiva-relazionale. Il mondo con cui abbiamo a che fare è un mondo affettivo-relazionale prevalentemente distrutto. Se non vogliamo essere catastrofici, possiamo dire disturbato. affettivamente squilibrato. E quindi dobbiamo riuscire a ridare un equilibrio a questi ragazzi. Non sono poi realmente così, ma devono raccontarsi così. Almeno otto persone sono rimaste ferite a Roma per il cedimento di una porzione di scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe stato provocato dagli eccessi dai comportamenti sfrenati dei tifosi del CSKA Mosca diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. A Piazza della Repubblica sono arrivate decine di mezzi di soccorso con ripercussioni sul traffico. Presenti carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale, molte ambulanze. Cambiamo pagina. La Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. Lo affermano fonti del Viminale che annunciano verifiche su un episodio del 18 ottobre avvenuto a Clavier sul confine italo-francese quando le autorità italiane hanno bloccato la procedura. Gli sviluppi della vicenda, la cronaca delle ultime ore con Silvio Vitelli. Ci sarebbero anche dei minori tra i migranti che la Francia ha cercato di restituire all'Italia la scorsa settimana ma le autorità del nostro paese sarebbero riuscite a bloccare la procedura. È uno degli alimenti emersi nel corso della visita di ieri degli esperti inviati dal Viminale nel comune torinese di Clavier. Se verranno confermate dall'inchiesta giudiziaria che è in corso sono cose abbastanza di una certa gravità senza voler drammatizzare senza voler enfatizzare quindi la cosa è stata presa sul serio. Salvini ha ribadito l'invito a Roma per il suo omologo francese. Il presidente Macron dovrebbe farsi un esame di coscienza ha dichiarato il ministro attaccando anche il commissario europeo per gli affari economici. Chissà se Moscovi sì, sarà scioccato anche per questa tentata espulsione di minori ha detto, confermata la presenza fissa di una pattuglia al confine. I migranti non hanno mai creato di problemi. Gli antagonisti hanno cercato di dare una risposta dal loro punto di vista che non fa neanche il bene dei migranti perché mandare i migranti allo sbaraglio in Francia dove saranno considerati clandestini per tutta la vita non è fare il loro bene. Ha fatto l'Italia due anni a Milano. Ha fatto la formazione tutti ma non c'è lavoro ancora ma sono escusate, non è facile per fare la vita così. Ma hai visto, sono giovane, non è possibile andare così. La vita è meglio per fare. Abbiamo le prove che l'omicidio brutale di Jamal Kassoggi pianificato per giorni è stato eseguito da un commando di sauditi arrivati in Turchia in tre gruppi. Queste le affermazioni del presidente turco Erdogan che ha chiesto di processare a Istanbul le 18 responsabili dell'assassinio definito selvaggio. Il servizio è di Marco Burini. Se non proprio lui, il suo braccio destro, a guidare l'operazione con cui è stato eliminato Jamal Kassoggi è stato Saud Al-Katani, stretto consigliere responsabile della comunicazione sui social media di Mohammed bin Salman. Lo rivelano fonti dell'intelligence turca, secondo cui il presidente Erdogan ha in mano la registrazione dei colloqui via Skype tra Al-Katani e il commando che lo scorso 2 ottobre è entrato nel consolato saudita a Istanbul per eliminare il giornalista, da tempo critico con il regime di Riyadh. «Portatemi la testa del cane», così ha ordinato Al-Katani e i suoi uomini. Dopo giorni di indiscrezioni e dettagli macabri fatti trappelare dalla stampa, è la prova che Mohammed bin Salman, il principe trentenne che regge la monarchia saudita dallo scorso anno, è il mandante di un'operazione che può essere un colpo mortale, è il caso di dirlo, alla sua immagine. Anche se Trump, socio di lungo corso dei sauditi, ieri ha provato a dargli una mano dicendo che in fondo si trattava solo di un piano andato storto e che l'enorme partita di armi che Washington sta vendendo a Riyadh non è in discussione. Erdogan, invece, è uscito allo scoperto. Le prove mostrano che l'omicidio è il frutto di un'operazione pianificata. Perché il team si è riunito a Istanbul? Chi gli ha dato l'ordine di farlo? Perché sono state fatte dichiarazioni contraddittorie? Abbiamo bisogno di risposte, ha detto stamattina nel Parlamento di Ankara, chiedendo ai sauditi di consegnare il responsabile più alto in grado dell'omicidio, che ha definito raccapricciante e politico. Ma la sensazione è che il leader turco non abbia detto tutto quello che sa, come se volesse tenersi qualche carta in mano. Intanto, oggi a Riyadh, si apre una conferenza in cui i sauditi contano di chiudere accordi commerciali per 50 miliardi di dollari. Nonostante alcuni politici e big della finanza e dell'informazione, abbiano deciso di non partecipare dopo il caso Cascioggi. Ed eccoci a parlare dell'incontro di Papa Francesco con giovani e anziani. In dialogo all'Augustinianum sono stati affrontati alcuni temi del libro intitolato La saggezza del tempo, curato da padre Antonio Spadaro, direttore della civiltà cattolica. Dalle domande sono scaturite riflessioni su povertà, emarginazione, violenza e migrazioni. Ma all'incontro intergenerazionale organizzato nell'ambito del sinodo è intervenuto anche uno speciale anziano. Si tratta del regista Martin Scorsese che ha chiesto al pontefice come la fede di un giovane può sopravvivere in questo mondo segnato da violenze e ingiustizie. Francesco gli ha risposto soffermandosi su una particolare forma di violenza. la tortura che ha definito distruzione della dignità umana. E poi ha parlato della saggezza delle lacrime. Allora ascoltiamo proprio questo passaggio. Dobbiamo dire la saggezza del piangere e il dono del piangere. Davanti a queste violenze, a queste crudeltà, a questa distruzione della dignità umana il pianto è umano e cristiano. e chiedere la grazia delle lacrime. Perché il pianto ammorbidisce il cuore, apre il cuore. È fonte di ispirazione. Piangere. Gesù nei momenti più sentiti della sua vita ha pianto. Nel momento che lui ha visto il fallimento nel suo popolo pianse su Gerusalemme. Piangere. Non avete paura di piangere su queste cose. Siamo umani. Puoi condividere l'esperienza. Condividere l'esperienza e torno a parlare del dialetto è l'empatia. Condividere l'esperienza con empatia con i giovani. Non si può avere una conversazione con un giovane senza empatia. Dove trovo questa empatia? Non condenare i giovani. Come i giovani non devono condenare gli anziani. Ma avere l'empatia. L'empatia umana. Io me ne vado perché sono vecchio ma tu rimarrai. E questa è l'empatia della trasmissione dei valori. Il telegiornale termina qui. Grazie per la cortese attenzione. Subito dopo di noi l'appuntamento consueto con TG di TG. Il nostro approfondimento della sera sui fatti del giorno con Donatello Vaccarelli la giornalista e scrittrice Flavia Perina. A tutti voi l'augurio di trascorrere. Una buona serata. Arrivederci.